Io quello che ti vorrei chiedere è 5 nomi di talenti under 20 da tenere sotto osservazione per questa stagione 23-24 Diciamo che il primo è un po' mainstream ed è Hendrick, su Youtube l'abbiamo visto tutti però non quotidianamente Lui ci ha lasciato un'intervista, ha parlato di Barrella e Tonali e tu non hai esattamente l'impressione che Hendrick dal Brasile Guardi Barrella e Tonali tutte le settimane invece lui li conosceva, sta venendo fuori forte Il secondo è Antonio Silva, centrale difensivo, gioca con Otamendi, centrodestra, centrosinistra nel Benfica Io penso che sarà il compagno di Dias per i prossimi anni nel Portogallo Terzo nome particolare, Ronny Bardi, generalmente gioca a largo a destra nel Copenhagen Mancino, mancinissimo, divertente come tutti i mancini I genitori sono siriani, lui è nato in Kuwait, a Kuwait City Non lo so se diventerà un top top però è interessante Gli altri sono due nomi molto italiani, il primo è Wedrago, gioca in Germania, lo Schalke Piace tanto a Milan e Inter, quindi Milan e Inter lo stanno trattando, ci stanno parlando Lui è un giocatore una mezzala, diciamo che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo Interessante perché può muoversi con una clausola Lui dice di voler finire le scuole, quindi voler partire soltanto a giugno Però io credo che qualcuno, Milan, Inter, Bayern, Monaco, Lipsia, qualche inglese ci proverà già da gennaio Proprio perché con una clausola intorno ai 12 milioni lo si prende volentieri L'ultimo nome Italia perché gioca in Italia è Kenan Hildiz da Juventus Non sta ancora giocando stabilmente con Allegri Però Allegri ha dato un po' di fiducia e Allegri non dà minuti gratis a nessuno Ma poi mi dicono che è uno con la testa speciale Lui e anche Huizen, il centrale di pensiero della Juve Sono due, mi dicono, proprio cattivi nel senso giusto Questo poi ti fa la differenza tra una carriera buona e una carriera alla Juventus Che insomma non arriva da sola